buon pomeriggio buon pomeriggio fochisti e fochiste di tutto il mondo so che mi seguite un po ovunque buonas dia buonas tardes buonas dia buonasera morning good afternoon eccoci qua vi faccio vedere che praticamente ho girato la griglia di acciaio allora abbiamo ottenuto questo risultato e la in fondo non so se riuscite a vedere si trova il legno che io faccio praticamente lo faccio entrare da sopra non apro questa zona perché è abbastanza rovente e ho pochissima so se riuscite a vedere sotto sembra una fornace e da come brucia fa molto caldo la in fondo c'è solo un legnetto più o meno grande più o meno così ecco per darvi l'idea dietro io ho messo questo legno qui la griglia e la famosa griglia in acciaio con quella con quell'apertura non so se riuscite a vederla ok e l'ho girata sotto sopra questa qui allora stava sotto sulla griglia questa apertura è praticamente e l'ho girata sotto sopra ok però ragazzi non si sta vicino devo mettere pochissimo le tutta la carbonella che fa sopra cade sotto non so se adesso riuscite a vedere tra un po che questo pezzetto cadrà è tutto tutto legno carbonizzato e vi dico che fa un bel po caldo tutto rovente quindi sotto abbiamo solo quei pezzettini di carbone che cadono da sopra ora vi faccio vedere anche perché bisogna aprire so ecco riuscite a vedere ecco è caduto è caduto un pezzetto piace ecco un pezzettino si è staccato però sono ora prendiamo 22 temperature ora prendiamo vediamo se riesco a centrarlo 306 i fumi 118 ho zoomato un po troppo andiamo sopra 70 ma si vede al tubo 72 vediamo con il ricordo un po di flash 310 ok forno non ve lo dico perché meglio di no 101 andiamo anche sopra se riesco l'uscita 63 quindi il caldo praticamente e noi ce l'abbiamo solo ed esclusivamente qui come vi faccio vedere prima ora vediamo se riesco a mettere un legnetto un legnetto allora proviamo questo ok troviamo questo legnetto quindi ve l'ho detto non assolutamente non si apre qui perché fa fumo perché distanziato parecchio guardate dentro questo possiamo dire ok il legnetto brucia lo mettiamo così sopra rimettiamo abbiamo messo il legno ok legno l'abbiamo messo sopra qui questo è il legno e piano piano anche lui diventa ecco è già accaduto quello quel pezzetto che c'era sopra e sotto che diventa carbonella anche lui è già diventato ma è tutto rovente quindi io viaggio a un pezzettino una volta ogni tre quattro orette e vi dico che fantastico fantastico perché molto caldo ora vediamo se riesco arriva da qua ecco questo sarebbe lo spettacolo ecco il legno ha già preso fuoco sopra vedete come una specie di braccio di cammino il cammino come avere un braccio del cammino e la lamiera ve l'ho detto in acciaio inox e questo sarebbe il legnetto che ha preso fuoco appena messo avete visto prima ecco questo è il nuovo esperimento che ho fatto girando la griglia e io vi dico che come sono efficienza una gran cosa perché le le bracine sotto resistono a lungo poi il legno sopra brucia ho chiuso tutti i registi dell'aria vedete sotto e chiuso anche la non ho lasciato aperto l'aria secondaria e l'aria del 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 tiraggio normale della canna fumaria l'ho chiusa e vi dico che tanta tanta roba io vi cari amici da lontano perché molto caldo è e a presto ci vediamo mettete un bel like come sempre sostenete mi come solo voi sapete fare e io vi faccio sempre vedere delle cose nuove come possiamo risparmiare la legna anche se è caldo fuori hanno 89 gradi però in casa in caso si sta bene con un po di caldino poi specialmente la stufa legna un abbraccione a tutti a presto la Lucia di Sparmiare ciao ciao